Un anno di trasformazione digitale. Strumenti e soluzioni innovative per una migliore conoscenza e gestione del patrimonio immobiliare dello Stato. Lavoriamo in un ambiente dinamico con competenza. Progettiamo piattaforme integrate per una conoscenza più approfondita dell'immobile, driver fondamentale delle scelte gestionali per la pianificazione e lo sviluppo del territorio. Il nostro obiettivo è un edificio green, sostenibile e resiliente ai cambiamenti climatici che offre servizi di qualità ai cittadini. Puntiamo ad essere una data-driven company, grazie all'utilizzo di dati certi e uniformi. Verso un nuovo patrimonio digitale. L'identità digitale raccoglie tutte le informazioni sull'immobile, dalla rappresentazione tridimensionale BIM all'utilizzo di sistemi cartografici per contestualizzare il bene nel territorio. Puntiamo a sviluppare strumenti e competenze assicurando qualità, accessibilità e fruibilità dei dati pubblici disponibili agli utenti dell'agenzia e delle pubbliche amministrazioni. Facciamo networking con importanti università italiane e istituti di ricerca per progettare soluzioni innovative e best practice per le PA. Innoviamo per conoscere.